Non c'è limite alla vergogna. Persone che si comportano così non c'è un modo di definirle. Un gesto inqualificabile. I cittadini di Cartigliano sono indignati, arrabbiati e allo stesso tempo rattristati per l'atto vandali commesso a segno all'interno del cimitero. Il Camposanto e i defunti vanno rispettati, tuonano, i cimiteri sono luoghi sacri e inviolabili. Questo è un cimitero molto curato dalle persone perché tutti vengono a trovare i loro parenti, i loro cari. È tenuto sempre molto bene, sicuramente qualcuno che aveva voglia di divertirsi, si può dire così? Oppure era un po' su di giri e aveva bisogno di sfogarsi? Vabbè, uso questi eufemismi, non basta. Ho sentito stamattina, sì, che ha arrabbiato tutti i fiori e il resto, insomma. Una brutta cosa, eh? Eh, il giorno d'oggi capita di tutto. Eh, non è comunque la prima volta che accade qui. È già successo. Sì, sì, sì. Saria giusto che il canceus sarasse, insomma. Comunque sono gesti che vanno condannati. Certo, questo è sicuro. Io spero che sia un caso isolato di una persona o di più persone che non sono a posto, però questo problema va risolto perché, ripeto, mi ripeto ancora, è una vergogna. Sì, sì.